A i vostri posti! Porta Enrico, non pagano quello avanti! Vai Ale, non ti accontentare, portala via! Siamo ai 7000 qua, è molto più del 1.22 ancora! Bravo! Porto via, parla avanti! Va bene così, va bene! Hai salito un po', va bene così! Dai 4 e 7, va bene! Sciogli le spalle! Vale Fabio, vale! Dai, dai, dai! hit Ju Young. Grazie buongiorno... Sì! Capito. Grazie per la visione!